Buongiorno a tutti, è veramente un piacere per me essere qua oggi e inizierei ringraziando e citando il gruppo di ricerca che mi ha sostenuto in questi due anni di assegno, che oltre al Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale di cui faccio ancora parte ci sono anche due spin-off S2R e Cobb Innovation Engineering e il Laboratorio di Geomatica GECO, oltre che all'Ufficio Tecnico della Galleria dell'Accademia che ringrazio in maniera particolare insieme alla Regione Toscana perché ci hanno cofinanziato questo progetto di fatto dandomi la possibilità di continuare la mia attività di ricerca. Il progetto David, come ha sottolineato il professor Borri, mira a tutelare il complesso museale della Galleria dell'Accademia di Firenze e l'enorme patrimonio in essa custodito e lo fa volendo sintetizzare al massimo sfruttando due aspetti che sono quelli che qui vedete sottolineati, digitalizzazione e conservazione e sono proprio queste due parole il centro e il fulcro su cui hanno gravitato i tre obiettivi operativi di questo progetto che erano conoscenza, analisi e modellazione e vulnerabilità. Vedrete nel corso di questa presentazione come questi tre obiettivi operativi hanno lavorato in sinergia per produrre il risultato finale del progetto che raccoglieva un po' la sfida di realizzare un modello aperto. Cosa intendo un modello aperto o meglio una serie di modelli aperti? Un modello in cui il flusso di informazioni mira ad essere circolare e costantemente aggiornato, una serie di modelli informativi e computazionali che tra loro dialogassero per far sì che il livello di conoscenza acquisito sulle strutture e sulle opere di questo complesso museale fossero strettamente in relazione con le valutazioni in termini di vulnerabilità. Se volessimo ridurre quali sono le attività maggiormente rilevanti di questo progetto io le sintetizzerei come il primo l'integrazione all'interno della gestione e la conservazione dei complessi museali storici della modellazione informativa HBIM e il secondo la definizione di una procedura per la valutazione della vulnerabilità congiunta struttura contenuto. In questi due aspetti vedrete che i tre obiettivi operativi che vi ho appena citato lavorano in stretto contatto. Partendo da un adeguato livello di conoscenza si passa ad integrare una modellazione informativa che arricchisce la modellazione computazionale per giungere alla definizione della vulnerabilità congiunta struttura contenuto. Perché vi sottolineo quanto la conoscenza sia importante? È importante perché il complesso museale della Galleria dell'Accademia, lo vedete qui da un ortofoso del Laboratorio Geco, si trova inserito in un contesto urbano particolarmente articolato che ha avuto origine in realtà agli inizi del 1300 quando si è proceduto alla costruzione di un nuovo complesso architettonico che per molto tempo fino alla fine del 1700 ha ospitato l'ospedale di San Matteo e il monastero di San Nicolò in Cafaggio. A seguito di queste trasformazioni si sono susseguite delle ristrutturazioni anche strutturali per adeguare questi locali alle nuove destinazioni d'uso, in particolare alla Galleria dell'Accademia. Ovviamente la svolta per la Galleria dell'Accademia è stata l'arrivo del David a fine del 1800 in cui si è provveduto anche alla costruzione della tribuna del David su opera dell'architetto De Fabris. La Galleria dell'Accademia, come tutte le altre fabbriche storiche e complesse museali, è un organo vivo nel senso che costantemente subisce ristrutturazioni e interventi che volgono a migliorare gli ambienti in cui vengono accolte queste preziosissime opere d'arte. Da un punto di vista strutturale noi poi ci siamo concentrati andando a cercare i tratti più significativi che caratterizzassero le strutture portanti. Abbiamo identificato tre macro-categorie murarie insieme a questi dati e ad alcune identificazioni dinamiche che sono state fatte durante il progetto David, è stato possibile suddividere questo organo così complesso in tre unità strutturali che sotto alcune condizioni possono considerarsi strutturalmente indipendenti e a tutta questa suddivisione strutturale va sovrapposta anche quella che riguarda la funzionalità del museo, quindi la suddivisione delle unità funzionali. Questa brevissima introduzione sulla conoscenza della Galleria dell'Accademia che trascura alcuni aspetti che per brevità non vi riporto, vi dà però il senso di quali sono e quante sono le informazioni che è necessario collezionare per far sì che tutto il modello possa avere la vastità di informazioni che richiede una conoscenza del museo. Per questo subentra la modellazione H-Beam. La modellazione H-Beam che nasce per strutture nuove e viene adattata a strutture storiche, è in sostanza un contenitore, un modello tridimensionale che ha un dettaglio anche molto alto relativo a ogni oggetto geometrico che si fa collettore di diverse tipologie di informazioni. Noi abbiamo diviso le informazioni sia a livello locale che a livello oggetto associando sia all'intero edificio, alle diverse unità strutturali, alle aree funzionali ma anche agli oggetti strutturali, architettonici, alle opere d'arte, diverse classificazioni di informazioni. Questa è un'immagine della modellazione H-Beam in cui ad esempio selezionando il David è possibile ricollegarsi a tutti i dati sperimentali che sono stati realizzati, al modello tridimensionale che è stato, il modello computazionale tridimensionale che è stato sviluppato. Invece selezionando ad esempio un paramento murario è possibile andare a vedere quali sono le informazioni che abbiamo su quel paramento murario e vedere ad esempio se ci sono dei dati sperimentali da cui acquisire delle proprietà meccaniche e da trasferire poi a che cosa? Al modello computazionale. Modello computazionale è stato sviluppato su più livelli sia di modellazione di dettaglio che di analisi che comprendessero sia tutta la globalità della galleria dell'accademia ma anche le sue unità strutturali. In particolare in quest'ultima parte della presentazione mi concentrerò sulla tribuna del David su cui si è proceduto a fare un aggiornamento delle caratteristiche meccaniche della muratura attraverso l'identificazione dinamica che è stata svolta durante il progetto David aggiornando così le caratteristiche meccaniche che hanno permesso di andare a definire un modello strutturale maggiormente affidabile. Ci siamo allora chiesti come valutare però la vulnerabilità congiunta a struttura contenuto e lo abbiamo fatto sviluppando delle curve di fragilità che rappresentassero la vulnerabilità del contenuto e del contenitore quindi della tribuna del David e del David stesso. Per costruire queste curve di fragilità abbiamo valutato quali fossero i parametri più sensibili quali fosse la variabilità di questi parametri e la definizione di alcuni stati limite di danno e di collasso. Questo è tutto il panorama che abbiamo valutato in termini di parametri, variabilità e tipologie di analisi e ora qui c'erano dei video che per tempi diciamo non partono da qui direttamente. In ogni caso abbiamo sottoposto il David e la tribuna del David anche all'accelerazione dell'ultimo terremoto che si è stato registrato all'impronesa proprio lo scorso anno. In sostanza il risultato è questa curva di fragilità che che cosa rappresenta? Rappresenta nell'asse delle X la PGA quindi il livello di accelerazione di picco al suolo invece nell'asse delle Y vediamo la probabilità di accadimento che va infatti da 0 a 1. In sostanza più una curva di fragilità risulta dispersa quindi sdraiata e maggiori sono le incertezze che gravitano su quell'analisi più la curva diventa un delta di Dirac allora maggiormente la struttura e le informazioni sono certe. Questo è il risultato diciamo globale del nostro progetto che vede una curva di fragilità della struttura più bassa rispetto a quella del David. Che cosa vuol dire questo? Questo ci ha guidato nella nostra valutazione finale a delle priorità di intervento nell'ottica della conservazione programmata. Questo che cosa vuol dire? Abbiamo fornito alla Galleria dell'Accademia una lista di attività, di azioni prioritarie rispetto ad altre. Per cui basandosi anche su quello che prevede la normativa per le opere d'arte si promuove il percorso di conoscenza e monitoraggio, monitoraggio che attualmente non è presente alla Galleria dell'Accademia, promuovendo quindi un incremento di conoscenza sulla struttura di copertura del David che risulta essere l'elemento più critico e la progettazione di un sistema di monitoraggio trasversale che vada dalle condizioni microclimatiche vista la grande affluenza di visitatori ma anche quello di vibrazioni ambientali per identificare dinamicamente, sempre in maniera più accurata sia il David che la tribuna e anche un sistema di monitoraggio sulle lesioni che in passato era stato fatto e che può essere ripetuto. Gli sviluppi della ricerca, come accennava il professor Borri, sono assolutamente la replicabilità di tutta questa procedura ad altri oggetti, ad altri complessi museali. Per quanto riguarda invece strettamente la Galleria dell'Accademia è possibile estendere quello che è già stato fatto integrando la modellazione H-beam anche per gli impianti, è possibile anche aggiungere il rilievo laser scanner di altre opere d'arte, al momento ce l'abbiamo solo dei prigioni del David, potrebbe essere esteso ad altri oggetti di modo da creare cosa? Da una parte una sorta di museo virtuale, ma dall'altra uno strumento utilissimo per l'ufficio tecnico perché può ipotizzare, simulare ad esempio nuovi allestimenti che nella Galleria dell'Accademia sono sempre in evoluzione. Io con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.